Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul mio canale, oggi parleremo di questo Yachtiga dei Tamii in scala 1.48 devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo modellino che anche i cingoli sono molto semplici da assemblare sono ispirato a una versione molto famosa dello Yachtiger infatti ho dovuto fare anche un pochettino sfalzato per richiamare i aerei tedeschi che avevano strisce di verde, verde più chiaro e verde più scuro alternate in questa maniera, a volte più stretta e poi si era allargando è una cosa che mi piace parecchio di ieri tedeschi ha potuto replicarla anche in Yachtiger quindi volevo farlo vedere allora mi permetto che l'ho fatto con l'aerografia è stato fare i primi modellini che ho fatto con lo scotch in certe parti cioè mascherando lo scotch e poi ho voluto replicare spesso quello di Nileshift se così possiamo dire come possiamo vedere ragazzi volevo replicare un pochettino come quello di Nileshift il fatto è che qua dietro avesse terra e roba varia continuando con il coso si può vedere che ragazzi ho fatto tutta la terra e qua il fango che viene da giù verso su praticamente c'è molto da dire cioè ci ho messo un po' che ci ho messo un pomeriggio per farlo però devo dire che sono veramente piacevolmente sorpreso da come è venuto così vedete ragazzi qua ho fatto questa cosa questa è fatta l'altra mi piace parecchio perché non è preciso cioè ho fatto un pochettino a muzzo e mi piace parecchio soprattutto ragazzi con la nuova illuminazione si nota che è una roba pazzesca i cingoli personalmente per una volta anche se andò a pezzi sono venuti abbastanza bene quindi sono veramente felice di questo modellino adesso possiamo vedere ragazzi cioè ho fatto tutto lo vedo tutto addirittura e niente le suspensioni sono abbastanza semplicistiche sono semplicemente fatte con un wash e basta niente di che ma anche dall'altro lato ragazzi è un modellino molto semplicistico questo qua è da satorato su cingoli ora mi piace parecchio niente ragazzi non ci sia molto altro da dire più che altro questo modellino aspetta dall'alto ci sono sentito di far vedere questa parte cioè ho fatto anche qua la stessa tecnica da sotto mi piace parecchio perché secondo me è venuto anche abbastanza realistico potete dirmelo sotto nei commenti perché io ragazzi non lavoro con uno zoom qua che bello ma ora c'è quanto perché io ragazzi lavoro dezoommato se così possiamo dire quindi io non vedo per bene dove sto lavorando o come sto lavorando quindi niente ciao